La relazione del segretario del Partito Democratico per Luigi Berzani apre a Roma l'Assemblea Nazionale del Partito. Nel discorso menziona anche il ritorno di Berlusconi. Aghiaccianti ritorni. Perché? E non solo, espone anche una metafora a difesa del Presidente del Consiglio. Il pompiere può anche fare degli errori, ma non è lui che ha abitato il fuoco. E sarebbe curioso che colui che ha piccato il fuoco si permettesse adesso di fare le pulce al pompiere, che comunque ha impedito che il fuoco dilagasse. Ed infine espone i punti che porterà alle primarie. La mia candidatura, la candidatura del segretario del Partito Democratico, anche in ossequio le nostre regole, io dichiaro qui che noi siamo pronti a stracciare almeno la norma sulla riduzione del numero dei parlamentari. In ogni caso di legge elettorale si discuterà. E, a differenza di quel che si dice, l'oggetto del contendere non è affatto scuro. Noi abbiamo da parte della destra una preclusione verso il doppio turno di collegio. Per noi questa resta la proposta migliore. Per l'Italia. L'abbiamo depositata da mesi in Parlamento. Noi partiamo da lì.